Ancora un incidente mortale sulle strade di Capitanata e di tre vittime, il bilancio del terribile impatto verificato si intorno alle 15.30 del 28 maggio, al chilometro 70 della strada statale 90 tra Foggia e Troia, all'altezza del ponte Albanito. A quanto si apprende un'auto ha impattato frontalmente contro due motociclette. Le vittime sono tre motociclisti della provincia di Avellino, Emilio D'Avella di 30 anni, Emanuele Serafino di 32, entrambi di Ariano Erpino e Pamela Mustone di 33, di Melito Erpino. A quanto si apprende, Avella e Mustone viaggiavano sulla stessa moto ed erano fidanzati. La terza vittima viaggiava sulla seconda moto coinvolta. Ferito in modo lieve il conducente dell'auto, una Dacia Duster, con la quale le motociclette sono entrate in collisione per causa ancora da accertare. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco.